Una delle convinzioni che sono presenti sia nella gente comune che nei professionisti della salute è che gli integratori alimentari e gli alimenti detti funzionali, quelli che promettono di avere una funzione sulla salute dei consumatori, siano in realtà una specie di far west, un settore deregolato dove le aziende possono più o meno comunicare quello che vogliono. Questo non è assolutamente vero, sia a livello mondiale che comunitario che nazionale esistono delle linee guida per i vari settori di questi alimenti e di questi integratori. Quest'anno celebriamo il decimo anniversario di una linea guida molto importante che è quella sugli alimenti e sugli integratori probiotici, cioè quegli alimenti e quegli integratori che contengono dei batteri vivi che sono capaci di esercitare una funzione positiva per la salute del consumatore. Dieci anni fa ho avuto la fortuna di partecipare al percorso di preparazione di queste linee guida, un percorso organizzato congiuntamente dalla FAO, l'organizzazione ONU che si occupa di alimentazione, e dall'OMS, altra organizzazione ONU che invece governa il mondo medicinale. Attraverso un percorso che si è svolto fra l'Argentina, il Canada e Roma, un gruppo di esperti che nel momento di massimo lavoro ha raggiunto la quindicina, ha stilato delle linee guida piuttosto importanti, che sono scaricabili tra l'altro dai due siti, sia della FAO che dell'OMS, e che regolamentano sia la caratterizzazione e l'identificazione dei batteri che devono comporre questi prodotti, sia anche delle regole per andare a dimostrare l'efficacia dei prodotti stessi. È importante che ci siano queste linee guida perché in questo modo i paesi che aderiscono all'ONU possono a loro volta derivare delle linee guida nazionali. L'Italia tra l'altro è stato il primo paese del mondo a tradurre per il proprio territorio queste linee guida che hanno valenza mondiale in una serie di documenti nazionali, il primo documento del Ministero della Salute è datato 2005, poi ci sono state diverse riedizioni e sta per uscire la terza revisione di questi documenti, anche questo documento è scaricabile dal sito del Ministero della Salute. Che cosa dicono queste linee guida? Dicono sostanzialmente che i prodotti probiotici hanno il potenziale per svolgere delle reazioni positive per la salute del consumatore, queste azioni positive sono legate a uno specifico ceppo batterico, quindi non tutti i batteri, non basta essere un fermento lattico per poter avere un'azione positiva, bisogna essere uno specifico ceppo e queste azioni positive sono legate all'individuo batterico. Ad esempio una delle affermazioni più forti che fanno le linee guida è che non si possono traslare le dimostrazioni di efficacia fatte su un prodotto ad un altro prodotto, anche se questo prodotto contiene dei batteri molto simili, batteri molto simili ma non identici, hanno azioni diverse. Inoltre le linee guida danno una serie di regole per andare a dimostrare l'efficacia, bisogna che i prodotti probiotici abbiano almeno uno studio fatto sull'uomo che dimostri l'efficacia, uno studio fatto con le regole della ricerca clinica, quindi in doppio cieco, randomizzato, possibilmente contro un placebo. Inoltre deve essere dimostrata la capacità di questo ceppo, del ceppo batterico, di sopravvivere fino all'ultimo giorno della cosiddetta shelf life, della vita sullo scaffale. Infatti uno dei problemi dei batteri probiotici è che essendo vivi devono però mantenere la loro vitalità nell'alimento dell'integratore fino all'ultimo giorno. Sono state delle linee guida importanti, sono state recepite da più di 25 paesi, gli ultimi a recepirle nel senso dei più recenti sono stati gli indiani, ma in mezzo c'è stato il governo canadese, la Food and Drug Administration, quindi diversi paesi importanti si sono adeguati a queste linee guida. Linee guida che sono state poi riaggiornate nel 2006 e che continuano ad avere un forte impatto su quello che è il mercato e l'utilizzazione dei prodotti probiotici. Allora per i professionisti della medicina, per le persone a cui si rivolgono i consumatori o i pazienti è importante avere conoscenza di queste linee guida, confrontarsi con esse anche perché ad esempio uno degli errori che si fanno è quello di utilizzare i batteri probiotici anche in situazioni patologiche estremamente complicate, estremamente gravi, quando in realtà i probiotici sono stati studiati anche per la loro sicurezza solamente in persone sostanzialmente sane, con disturbi di tipo minore, ma non certamente in patologie gravi. Quindi l'approccio ai probiotici deve essere un approccio di tipo positivo, ci sono dimostrazioni della loro efficacia, ma anche un approccio che tenga conto della realtà, del contesto in cui si devono utilizzare gli alimenti probiotici.